Ciao a tutte e tutti, con questo video io esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza alle 50 attiviste e attivisti che da giorni sono in presidio all'isola del Giglio per tentare di proteggere i muffloni del Giglio, una specie che sta davvero attraversando una vera e propria persecuzione. Questi bellissimi animali furono importati dalla Sardegna negli anni 50 proprio per essere tutelati dal bracconaggio interno. Hanno vissuto su quelle terre 70 anni, in totale armonia con l'ambiente, con la natura, con le altre specie, voluti bene dalla popolazione del luogo. Un anno fa il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha iniziato già una manovra a loro danno che è stata tempestivamente cercata di arginare dalla popolazione del luogo che ha cercato di organizzarsi per trasferire questi animali in delle aree protette o attraverso percorsi di sterilizzazione. Nonostante ciò già da allora furono sterminati decini di individui e avviata questa specie all'estinzione. E come se non bastasse adesso il Parco, la regione toscana, apre la caccia e quindi dà il via ai cacciatori per potersi recare nel luogo ed attuare un vero e proprio sterminio nei confronti di animali meravigliosi, innocenti, che vanno d'accordo con le altre specie, che non sono nocivi per l'uomo, per la natura. Quindi questa è l'ennesima scelleratezza, insensatezza da parte dell'uomo nei confronti degli animali. E io mi auguro davvero, davvero che questo abominio si possa fermare e quindi ringrazio dal mio cuore più profondo le attiviste e gli attivisti, esprimo la mia massima solidarietà, spero lo facciano in tanti e esprimo la mia massima vicinanza anche alla popolazione dell'Isola del Giglio, che non vuole questo sterminio, che si sta opponendo con tutte le sue forze e quindi fermiamo, vi supplico, questa strage.